Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Ghost of Tsushima vi mostrerò dove trovare i 10 altari nascosti per lo sblocco del trofeo. Gli altari sono facilmente individuabili grazie a questo cartello. Quando vedete questo cartello dovete inchinarvi per dare il giusto tributo a coloro che sono dipartiti. Quindi se trovate 10 altari nascosti sbloccate il trofeo. Il primo altare si trova qui al lago Omi in prossimità del villaggio di Omi. Quindi potete usare il viaggio rapido. Mi trovo a Toyotama, la seconda zona o regione. Raggiungete il lago e una volta che vi trovate accanto al cartello non vi resta che inchinarvi. Questo è il primo altare. Il secondo altare si trova qui nella prima regione, Izuara, al punto chiamato Pace di Tadaiori. Se seguite la storia sicuramente ci arriverete. Potete usare anche il viaggio rapido. Una volta che vi trovate qui, ecco l'altare. Non potete mancarlo. Come vedete c'è il solido cartello. Quindi vi avvicinate e vi inchinate. Il terzo altare si trova qui, sempre a Izuara, nei pressi della fucina di Komatsu. Quindi dovete raggiungere il cimitero che si trova praticamente qua. Non potete sbagliarvi. Una volta giunti qui, avvicinatevi al cartello qui e vi inchinate. Il quarto altare nascosto si trova sempre a Izuara. Questa volta qui, nei pressi di questo fiume. Se avete sbloccato il villaggio di Kechi, lo troverete. È, diciamo, un luogo dove c'è una missione secondaria. Quindi arrivate qui, praticamente, dove c'è il cartello e vi inchinate. Il quinto altare si trova sempre a Izuara. Questa volta presso le cascate del lupacchiotto. Partendo dalla tana delle volpi, vi spostate verso i colli qui in basso. Fino a trovare il cartello e vi inchinate. Il sesto altare si trova sempre a Izuara, nei pressi della foresta delle Sorgenti Celate. Partendo dal villaggio, vi spostate in basso. Se avete sbloccato questo, diciamo, viaggio rapido, raggiungerete velocemente il luogo indicato. Dovete arrivare qui, praticamente, dove ci sono tutte queste statue. C'è il cartello, quindi vi inchinate. Il settimo altare si trova a Toyotama, praticamente qui, nei pressi dell'appostamento della pietra fangosa. Partendo da qua, dovete raggiungere questa sorta di fiume. Quindi, giunti qua, troverete il cartello, vi avvicinate e vi inchinate. L'ottavo altare si trova sempre a Toyotama. Ci spostiamo, questa volta, sulla sinistra, presso il pilastro dell'onore. Quindi, raggiungete il pilastro dell'onore, troverete un cartello e quindi vi inchinate. Il nono altare, segreto, si trova praticamente qui, in questa sorta di palude. Sempre a Toyotama, in basso a sinistra, nei pressi della Baia di Umiji. Praticamente vi recate qui e troverete questo cartello celato, quindi vi inchinate. Il decimo e ultimo altare si trova praticamente qui, un luogo molto familiare se avete completato la storia. Sempre a Toyotama, sempre al lago Homi, solo che questa volta, anziché qui, dovete recarvi un po' più in basso. Come vedete c'è il cartello e vi inchinate. Fatto questo, sbloccherete il trofeo relativo ai dieci altari nascosti.